ciao sono david cardano sono laureato in psicologia e laureato in scienze motorie mi occupo di counseling coaching mental training scienze motorie ovviamente in ambito kinesiologico e posturale con questo video vi parlo dei valori i valori sono le nostre ragioni del comportamento questo è un argomento molto importante che trattiamo nei dettagli del nostro corso di formazione mental trainer academy un corso di formazione per mental trainer e mental coach professionisti potete trovare informazioni su questo nostro percorso formativo nel nostro sito www.mental trainer academy.com e veniamo all'argomento i valori le ragioni del comportamento i valori costituiscono un filtro inconscio attraverso il quale noi vediamo il mondo percepiamo la realtà e ci comportiamo di conseguenza tutti noi abbiamo un filtro percettivo una sorta di griglia attraverso la quale noi entriamo in contatto con il mondo esterno e ognuno di noi ha un certo modo di percepire e filtrare quindi l'esterno uno dei filtri più importanti è proprio quello che ci da i ci danno i valori perché i valori sono le cose che contano per noi sono gli elementi che contano per noi quelli che ci motivano quelli quelli che ci forniscono anche le ragioni per fare o non fare qualcosa i motivi per fare o non fare fare quindi come noi agiamo sono quasi dei protocolli secondo i quali viviamo i valori principali un po più diffusi sono il valore dell'amore il valore della salute della felicità il valore dell'apprendimento il valore delle relazioni il valore del rispetto degli altri il valore del non rubare ma ci sono anche valori che potrebbero essere finiti disvalori sono persone che credono in valori che io definisco disfunzionali c'è chi crede nel valore dell'opportunismo che crede nel valore della scarsa empatia che crede nel valore della manipolazione per ottenere dagli altri qualcosa in modo poco corretto e così via discorrendo diciamo che in base ai valori che noi abbiamo dentro di noi avremo dei comportamenti etici o non etici a seconda appunto dei differenti aspetti della vita noi abbiamo anche valori diversi teniamo comunque presente che i valori sono gli elementi che guidano la nostra vita ci spingono a scegliere di vivere secondo certe modalità e in base a come voi state vivendo la vostra vita attualmente potete capire quali sono i valori principali che vi stanno portando a compiere certe azioni o anche a non compierle ci sono valori molto importanti legati alle relazioni come ho detto e legati anche alla professione che magari ci spingono nell'ambito professionale a scegliere un lavoro invece di un altro per esempio il mio lavoro di cancelo in ambito della psicologia è un valore che mi porta a scegliere questa professione in quanto amo aiutare le persone amo essere una guida amo condividere informazioni che ritengo importanti i valori legati per esempio le relazioni possono indurci a scegliere un tipo di rapporto rispetto un altro un tipo di compagna compagno moglie marito eccetera eccetera tenete presente questo che i valori si sviluppano a partire dalle nostre esperienze personali quindi noi non nasciamo con dei valori proprio così già impiantati nel nostro dna dalla genetica o epigenetica l'epigenetica ci dice che l'ambiente influenza i nostri geni e plasma la nostra struttura psichica caratteriale i valori quindi sono molto simili alle convinzioni ho tenuto parecchi corsi sulla convinzione sulle convinzioni e c'è anche un video su youtube che parla di convinzioni però rimaniamo sui valori i valori si sviluppano moltissimo da ciò che la nostra famiglia ci ha instillato quando eravamo piccoli quello che praticamente ci hanno inserito dentro la mente i nostri genitori i nostri nonni i nostri parenti i nostri fratelli maggiori ma anche le figure di riferimento come maestri insegnanti scolastici istruttori sportivi figure di riferimento religiose e tutto questo giustamente ha influenzato giustamente ripeto la nostra vita altri elementi che possono influenzare significativamente la nostra struttura psichica sono i media quello che vediamo in televisione quello che vediamo online sul web e giustamente anche le diverse culture con le quali entriamo in contatto quindi persone che magari hanno viaggiato molto hanno dei valori diversi da chi è rimasto molto statico nella propria città di origine adesso voglio comunicarvi i tre momenti chiave in cui i valori si cominciano a creare è una teoria molto diffusa che ritiene che esistano tre periodi chiave durante i quali i nostri valori si creano e si modificano il primo periodo è quello che va dai zero ai sei massimo sette anni chiamato molto anche il periodo di imprinting proprio quello che va dalla nascita fino ai sei massimo sette anni che quando siamo così piccoli è un momento in cui noi assorbiamo tantissimo anche inconsapevolmente i valori dalle persone intorno a noi dalle persone con le quali passiamo ovviamente la maggior parte del tempo in genere la famiglia in questo periodo quindi siamo come delle spugne che assorbiamo incredibilmente ed è per questo che i genitori hanno una grande responsabilità nei confronti dei propri figlioli figliuoli la seconda fase è il periodo di modellamento questo va dai sei sette anni fino circa ai tredici quattordici in questa fase di modellamento il nostro mondo la nostra visione del mondo tende ad ampliarsi ad allargarsi soprattutto quando iniziamo andare a scuola e ovviamente siamo influenzati da un maggior numero di persone che possiamo incontrare nella nostra vita scolastica e non solo anche sportiva e che hanno ovviamente un impatto forte nei nostri confronti ma hanno un impatto diverso della nostra famiglia tanto è vero che una fase importante che inizia proprio verso 12 13 anni è la fase della adolescenza ma la terza fase che va dai 13 14 fino ai 20 21 anni circa è la fase in cui noi abbiamo una maggior socializzazione ancora sono proprio i momenti in cui si tende ad uscire di più a frequentare gli amici le serate al bar in discoteca al ristorante le prime magari vacanze da soli e in questa fase siamo in grado di essere ancora più esposti a cambiamento in quanto siamo in grado di esercitare maggiormente il nostro giudizio critico un giudizio critico che ovviamente è indirizzato verso i valori in questa fase si tende a cercare un posto nella società un'identificazione si consolida ulteriormente la nostra identità e pertanto si tenderà a decidere quali dei nostri valori originari abbandonare sostituire cambiare o mantenere quindi ecco perché lo si chiama periodo di socializzazione e in questo periodo è ricorrente anche in ambito proprio di psicologia che ci si possa trovare in conflitto con gli amici in conflitto con i genitori in conflitto con la famiglia in generale proprio perché è una fase di grande cambiamento e ampliamento queste tre fasi non sono ovviamente così precise come vi ho comunicato con le date indicative ma fa comprendere che dai 0 ai 21 anni abbiamo una uno sviluppo enorme dai 21 anni in poi poi ovviamente la vita prosegue e vi auguro lunga vita a tutti avremo poi la possibilità di valutare in base ai risultati in base alla nostra crescita personale alla nostra evoluzione personale quali valori eventualmente tenere o meno nei confronti della vita e delle nostre scelte di vita in questo percorso da adulti risulta molto importante anche anche farsi seguire da professionisti da mental trainer mental coach psicologi esperti in crescita personale e frequentare anche corsi di formazione a livello professionale e anche a livello personale uno di questi percorsi appunto è la nostra accademia di formazione mental trainer academy che ha un anno di formazione con 10 moduli di un intero fine settimana per un totale di 250 ore più 50 ore di tirocinio è una tesi finale quindi se vorrete fare questo percorso con noi siete i benvenuti io vi ringrazio per l'attenzione rimango a disposizione con la solita mail davidcardano chiocciolo gmail.com se avete ulteriori domande o desiderio di approfondimento grazie a tutti e buona vita grazie a tutti